gentili telespettatori buona giornata c'è chi parla anche di primavera di rinascita post covid chi è? è il direttore dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia che ha partecipato questa mattina all'open day vaccinale dell'ospedale San Giovanni addolorata per le donne in gravidanza e allattamento Vaia ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sull'andamento della pandemia bisogna che i catastrofisti se ne facciano una ragione questa Omicron è una variante benigna abbiamo vaccini abbiamo terapie soprattutto i nuovi antivirali che dovranno essere messi presto a disposizione di tutti nelle farmacie dobbiamo godere di una primavera di rinascita oggi dice un giorno di rinascita e vedere che vedere questi dati positivi è una gioia non è il tempo di lanciare messaggi catastrofici ai cittadini le varianti non devono spaventare se sarà necessario faremo dosi di richiamo in autunno non arriviamo però a vaccino e cappuccino non c'è questa necessità inoltre si stanno dimostrando efficaci gli antivirali ribadisco gli antivirali devono essere dati a tutti nelle farmacie e così il direttore dello Spallanzani si è soffermato poi sulle dichiarazioni di Andrea Ammon direttrice del centro europeo per le malattie dice lei non ha detto prepariamoci alla fine del mondo è stata data forse un'interpretazione sbagliata è normale si creino varianti del virus non è detto che siano maligne e noi abbiamo comunque degli strumenti per fronteggiarle vaccini e terapie innovative vai ha inoltre scritto un post su facebook sul tema beh comunque io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata